Dopo una lunga sosta arriva anche il primo impegno del 2021 per il Valle Soverato, domenica 10 gennaio alle ore 16. La squadra del presidente Matozzo ospita in casa l'attuale fanalino di coda della Gironest, Montecchio. Si riprende dopo una lunga sosta, quindi le insidie sono sempre dietro l'angolo, ci vuole massima concentrazione. Con il direttore tecnico Valiengo, quindi presentiamo questo primo impegno del nuovo anno. Hai detto bene tu, la partita ha questi insidie della ripresa del campionato, però sicuramente in palestra le ragazze e lo staff guidate da Bruno Napolitano hanno svolto una preparazione adeguata alla ripresa. Sicuramente saremo pronti e assolutamente non sottovaluteremo l'impegno perché merita rispetto e attenzione. Con i vari recuperi delle giornate di campionato che si stanno ultimando in queste settimane, la classifica si sta riassestando. Soverato saldamente al terzo posto, ci sono ancora tre impegni prima di chiudere la regular season, quindi ci sono in palio dei punti importanti anche in ottica seconda fase, quindi pool promozione. Sicuramente le tre partite meritano la massima attenzione e chiaramente ottenere più punti possibili fanno far sì di entrare nella griglia nella parte più alta possibile, ma chiaramente la nostra posizione si potrà valutare alla fine con l'aggiunta anche dei punti che verranno distribuiti per la mancanza di due partite rispetto al Gerone Ovest. Ripeto, il gruppo delle 5, 6, 7 squadre che si giocheranno i primi posti del ranking e noi contiamo di entrare in una posizione favorevole che chiaramente potrebbe essere così come stanno al momento dell'attuale delle cose, unendo i due gironi potrebbe essere una quarta o quinta posizione di ingresso. Viste le insidie di questa stagione causa Covid, i pericoli sempre dietro l'angolo, i recuperi di campionato, i roster allestiti, si sta confermando una stagione con un campionato molto equilibrato, questo ovviamente da una parte per gli appassionati sicuramente di volley è una gran bella cosa perché ci si diverte ogni domenica, per le squadre invece ci vuole sempre massima attenzione e concentrazione e lo abbiamo visto nel corso di questa regular season che effettivamente ci vuole poco ad inciampare durante il corso della campionata. Come ho detto prima, c'è un gruppo di 6-7 squadre e noi facciamo parte di questo gruppo, però chiaramente ci va nulla per poter inciampare per cui i valori sono molto vicini in questo gruppo, quindi essere all'inizio o alla fine il valore è molto simile, per cui l'attenzione è massima e chiaramente ogni squadra farà del proprio meglio per poter ambire alle posizioni di alta classifica. Chiaramente i posti per la promozione sono due e vanno ripartiti su almeno un gruppo di 7 squadre che possono appetire. Noi già essere in questo gruppo è importante e dopodiché, come sempre, faremo il nostro meglio per poter arrivare il più alto possibile. Infine, condizione generale della squadra che ha chiuso il 2020 con qualche acciacco nel proprio roster, però c'è stato anche un buon periodo per recuperare energie fisiche, mentali e anche per curare questi acciacchi perché, dicevamo prima, praticamente si riprende dopo tre settimane. Sì, diciamo che questo periodo è stato usato proprio per questa cosa. Noi in questo momento stiamo bene, stiamo bene, siamo al completo, le ragazze si allenano al 100%, per cui questi giorni sono stati sfruttati proprio per riportarci al recupero di energie psicofisiche che comunque sono necessarie per un proseguo di una stagione molto, molto, molto lunga e ancora ha tutto a divenire per i risultati finali. Primo impegno del 2021 per il Volle Soverato. Domenica la squadra Biancorosa ospita Montecchio. Siamo con Chiara Mason, dopo una lunga sosta avete ricaricato le batterie, come si suol dire, per un tour de force adesso che vi aspetta in vista poi anche della pool promozione. Sicuramente abbiamo fatto un lungo stop dove siamo riuscite a ricaricare le batterie, siamo anche riuscite a tornare a casa per passare il Natale in famiglia e quindi siamo sicuramente positive, piene di energia, siamo riuscite a concentrarci anche sugli allenamenti individuali basati soprattutto sulla tecnica e siamo pronte a iniziare questo nuovo anno. Domenica sulla carta potrebbe apparire una partita facile contro Montecchio. In realtà questo campionato ci sta insegnando che non bisogna mai abbassare la guardia e i risultati anche dei recuperi delle varie giornate di campionato insegnano che l'equilibrio comunque la fa da padrone in questa stagione. È una squadra sicuramente molto giovane però non è per niente da sottovalutare anche perché essendo giovani appena prendono il lancio si caricano e ogni partita è a sé e dobbiamo impegnarci come abbiamo sempre fatto e lo dimostreremo anche in questa settimana. Inizia praticamente la seconda parte di stagione, si è chiuso il 2020, un giudizio anche sul tuo personale bilancio di questa prima parte di stagione perché comunque avevi fatto un grande campionato l'anno scorso, sei una delle tre riconferme della scorsa stagione, un inizio un po' in sordina possiamo dire, però poi è venuta fuori la Chiara Mason che già conoscevamo. Sono molto contenta di essere qua anche per questo secondo anno perché sicuramente i lavori che sono stati fatti l'anno scorso stanno proseguendo e il campionato è lungo, inizialmente tutte erano magari un po' più scariche perché dopo i mesi di stop era inevitabile, l'importante è essere adesso al massimo della forma, riuscire a dare quello che si può dare alla squadra. Alla luce anche del campionato che state disputando, degli avversari che avete affrontato, cosa ti aspetti da questa seconda parte di stagione? Abbiamo visto anche nell'altro girone, ci sono delle squadre molto valide, importanti, quindi si prospetta una seconda parte di stagione ancora più faticosa paradossalmente. Sì, beh, allora le ultime tre partite dobbiamo cercare di fare più punti possibili per la pool promozione perché ogni punto è fondamentale e adesso vedremo come saranno classificate le altre squadre nell'altro girone e prenderemo quello che viene, dobbiamo dare il massimo. Saranno trasferte lunghe perché le squadre dell'altro girone sono soprattutto a nord-ovest, probabilmente le faremo in autobus per evitare i contatti con aeroporti e insomma evitare il covid, quindi sarà sicuramente difficile e impegnativo, però fino adesso ce l'abbiamo fatta, continueremo a lavorare e a giocare come sappiamo fare.